Il significato di datebayo. Ciao, mi chiamo Sayaka e sono italo-giapponese. Partiamo dal presupposto che datebayo non è propriamente traducibile. Datebayo è formato da tre parti. Da è una forma del verbo essere che avrete spesso sentito nella forma cortese des. Questa volta non c'è e Naruto aggiunge solamente tebayo alle sue frasi. Teba viene utilizzato per indicare frustrazione perché l'altro non ci ascolta o non ci capisce un po' come ti ho detto... Yo è una particella di fine frase che viene usata quando stiamo informando l'altro di qualcosa o vogliamo fargli cambiare idea. Questa combinazione di teba e yo non è presente nel giapponese reale ma è stata creata per rendere il personaggio di Naruto unico tanto di ricordarlo per l'espressione stessa. Qualcosa di simile è stato fatto con Ram che finiva molte sue frasi con cha senza che questo aggiungesse nulla alle sue frasi. Chi l'ha vista in lingua originale magari l'ha notato. Prendendo ad esempio una frase di Naruto Soda tebayo che significa sì è così togliendo il teba otteniamo Soda yo il cui significato rimane lo stesso ma è formulato in un giapponese reale. Quali altre frasi o parole di personaggi di anime vorreste che analizzassi? Cianè! Ciao!